Dopo due anni di intenso lavoro, il capitano Piermarco Borlettaz lascia la guida della compagnia dei carabinieri di Vibo Valencia per andare a guidare il nucleo investigativo di Cremona. Senz'altro una promozione per il 37enne Valdostano, che dieci anni prima era già stato a Vibo Valencia, appena uscito dalla scuola ufficiale, quale tenente nello squadrone cacciatori. Quindi il trasferimento al nucleo operativo radiomobile di Susa, di seguito alla compagnia di Gardone Valtrompia, nel Bresciano, ed infine l'incarico appena concluso alla compagnia di Vibo Valencia. Due anni intensi durante i quali, accanto al lavoro quotidiano, ha costato quello di controllo del territorio in perfetta sinergia con le stazioni e la vicinanza al cittadino. Dal 1 settembre sarà sostituito dal capitano Gianfranco Pino, proveniente da Villanova d'Asti. Un'esperienza nuova che affronterò con la certezza e la sicurezza di aver maturato in questi due anni. Un'esperienza professionale importantissima che indubbiamente mi porterò in questo nuovo incarico. Cosa lascia Vibo Valencia e poi cos'altro porta oltre a questo a Cremona? A Vibo Valencia, di Vibo Valencia ripeto, sicuramente mi porterò l'importante esperienza professionale di una realtà impegnativa da punto di vista professionale, che però ovviamente mi ha dato tanto e a Cremona, sull'esperienza maturata qui, proverò a essere pronto e attento anche da un punto di vista investigativo alle esigenze del territorio. Il messaggio che lascio è un messaggio di speranza, inteso nel senso che sono convinto che con il giusto approccio che abbiamo avuto in questi due anni qui a Vibo Valencia, di collaborazione istituzionale e di collaborazione fra tutti i reparti del Comando Provinciale, si possono veramente ottenere ottimi risultati a tutela del cittadino.